Benvenuti alla lezione di teoria numero 9. Allora apriamo il nostro manuale a pagina 10 e abbiamo la figura numero 13. Quindi un esercizio di due righe in chiave di violino, tempo 4 quarti e vediamo le nuove figure, crome. Quindi le crome valgono un ottavo, vuol dire che vanno eseguite due su un accento da un quarto. Quindi adesso iniziamo a leggere prima le note per due battute, ci fermiamo sulla prima nota della terza battuta e poi dopo contiamo. Allora le note sono Do, Re, Mi, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Do, Re. Bene, quindi ripetete se avete ancora dei dubbi e adesso passiamo al conteggio col tempo. In questo caso avendo le crome mi facilito dividendo ogni numero in due piccole parti. Quindi contorò in questo modo. U, no, du, e, tre, e, quattro. U, no, du, e, tre, e, quattro. U. Un po' più veloce. Vediamo le note delle altre due battute e ci fermiamo sulla prima nota del secondo rigo. Le note sono Re, Fa, Mi, Do, Mi, Sol, Fa, Mi. Poi ecco quel segno di pausa, quella è una pausa di croma. Quindi dovrò fare una pausa sul secondo accento e riprendere a suonare dal Re. Ecco, anche quella è una no, è una croma. La codina, quindi non avendo la nota con cui accoppiarsi sullo stesso accento, risale singola, quindi risale verso l'alto. e si riconosce quindi appunto quella come croma. Quindi Re, poi abbiamo Do, Mi, La, Sol, Fa, da suonare legato perché la legatura che finisce dal primo rigo continua sul secondo. Vediamo il tempo. U, No, Du, E, Tre, E, Quattro, U. Quindi ecco, vedete, alla quarta battuta, sul secondo accento, sulla prima delle due parti dell'accento abbiamo la pausa, quindi sarà Du, E, Tre, E. Facciamo un po' più rapido, terza e quarta battuta, U, No, Du, E, Tre, E, Quattro, U. Uno, Du, E, Tre, E, Quattro, U. Andiamo avanti, secondo rigo, la posizione quindi si era leggermente allargata, avete visto sull'ultima quartina del primo rigo avevamo un allargamento tra il pollice e l'indice per sistemare le dita che potessero così trovarsi a suonare il La con il Mignolo. e quindi le posizioni sono già un po' cambiate perché abbiamo il terzo sul Fa, ricordiamoci. Quindi abbiamo le note, allora Fa, secondo rigo, Fa, poi c'è una pausa, Mi con l'indice, Re con il pollice, Fa si riallarga la posizione tra pollice e indice, Fa con l'indice, Si, La, Sol, Mi, Pausa, Re, spostamento della mano con il Mignolo sul Re, Si, Do, La, Sol, poi si allarga la mano per arrivare col Mignolo sul Fa. Allora, ripetiamo le note, abbiamo il terzo sul Fa, quindi inizio secondo rigo, le prime due battute fermandoci sulla prima nota della terza battuta, quindi abbiamo col terzo rigo venendo dalla legatura, quindi non faccio la caduta ma premo il Fa, quindi Fa, poi pausa, Mi, Re, Fa, Si, La, Sol, Mi, Pausa, Re, Si, Do, La, Sol, Fa, vediamo il tempo, quindi terzo sul Fa, Uno, due, E, tre, E, quattro, uno, eccetera eccetera, un pochino più veloce, Uno, due, E, tre, E, quattro, uno, due, E, tre, E, quattro, uno, due, E, tre, E, quattro, u. ultime due battute vediamo quindi le note abbiamo il quinto sul fa quindi fa poi caduta mi, re, do, mi cambio di posizione re col secondo caduta sol, si, do ripeto le note allora fa, mi, re, do, mi, re sol, si, do vediamo il tempo uno, due, e, tre, e, quattro uno, due, e, tre, e, quattro un po' più veloce uno, due, e, tre, e, quattro uno, due, e, tre, e, quattro facciamo adesso solo il secondo rigo quindi terzo sul fa uno, due, e, tre, e, quattro 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 allora adesso tutto da capo lentamente tutte e due i righi uno, due e tre e quattro uno, due e tre e quattro uno, due e tre e quattro un po' più rapidamente e conto un po' più a bassa voce uno, due e tre e quattro uno, due e tre e quattro passiamo alla figura quattordici, quindi chiave di basso, mano sinistra come abbiamo fatto per la figura precedente facciamo due battute alla volta quindi vediamo prima le note sempre tempo quattro quarti prima nota mi, terzo dito quindi questa è la posizione vediamo le note quindi mi fa mi re sol mi mi re do la fa pausa re si di nuovo mi fa mi re sol mi re do la fa pausa re sol contando uno due e tre e quattro uno due e tre e quattro un un po' più velocemente uno due e tre e quattro uno le note delle altre due battute ci fermiamo sulla prima nota del secondo rigo quindi le note sono si la sol mi fa cambio posizione caduta sul re col quarto fa mi do sol pausa caduta sul re con il secondo dito re si do la di nuovo le note quindi terza battuta secondo primo rigo mi la sol mi fa re fa mi do sol re si do la prima nota secondo rigo a tempo u no du e tre e quattro u no du e e tre e quattro un un po' più veloce uno due e tre e quattro uno due e tre e quattro un passiamo al secondo rigo note quindi la poi caduta sul fa con il pollice fa mi re si mi poi caduta sul la con il quarto quindi croma che vedete però staccata dalla sua seconda diciamo dell'accento quindi dal re perché in effetti questa è proprio scollegata cioè non è legata con la legatura di portamento quindi dovendo fare la caduta si preferisce poi lasciare da sola questa croma e unire le altre tre quindi seconda battuta la con il quarto caduta re si sol e poi sol sopra l'ottava sopra con il pollice pausa si con il mignolo do quindi ripetiamo le prime due del secondo rigo la fa mi re si mi la re si sol sol si e do contando uno due e tre e quattro uno due e tre e quattro un po' più veloce uno due e tre e quattro uno due e tre e quattro un andiamo alle ultime due battute quindi mi trovo con il quarto dito sul do le note sono do mi devo allargare adesso per raggiungere il la con il pollice la sol fa re mi caduta sul do del quarto re si do quindi ripetiamo le note con il mi la sol ma rai mi do re si do a tempo uno due e tre e quattro un no due e tre e quattro un no due e tre e quattro un u Un po' più rapidamente, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tutto da capo, tutte e due i righi da capo, facciamo direttamente tutte e due i righi, quindi lentamente... 3 e 4, 1, 2 e 3 e 4, 1, 2 e 3 e 4, 1, 2 e 3 e 4, da capo tutto più veloce e con to un po' più a bassa voce. 1, 2 e 3 e 4, 1, 2 e 3 e 4.